L'ATM, l'azienda del trasporto pubblico, sospende il servizio di collegamento nel territorio regionale e mantiene soltanto le corse dirette fuori Molise. Lo fa di proprio conto per i già noti problemi di condenzioso con la regione Molise, attraverso un'azione di sicuro determinata e forte. Un problema in più per la giunta regionale, chiamata questa volta a dar conto ad un'utenza infastidita, che sempre più spesso malvolentieri deve subire le problematiche relative ad una mancanza di sintonia tra chi deve garantire con scelte politiche ed istituzionali i servizi sul territorio e chi deve di fatto renderlo praticabile. Della vicenda se ne occupano le organizzazioni sindacali che questa volta non sono dirette protagoniste del blocco, avendo l'azienda deciso di concedere ai dipendenti una giornata di ferie. Questa vicenda ormai sta coinvolgendo non solo più le categorie sindacali ma ha una rilevanza maggiore che quindi assume un rilievo confederale. In quanto con sindacati confederali adesso ci stiamo occupando, oltre che dei lavoratori, dell'utenza, quindi composta anche in gran parte da lavoratori, oltre che di studenti e di altre categorie sociali e siamo preoccupati per loro perché in questa vicenda di cui tra l'altro non si ricapisce, non si riescono ad individuare le responsabilità precise e chi ci sta rimettendo oggi sono queste categorie sociali. Preannuncio che è stata fatta una richiesta di intervento del prefetto che auspichiamo, ci auguriamo avvenga nelle prossime ore perché già da domani questa controversa questione possa essere ricomposta. È evidente che sono gli utenti a pagarne gli effetti negativi di questa vicenda e oggi noi siamo interessati a ricomporla, cioè fare in modo che almeno ATM che gestisce buona parte dei chilometri della rete regionale e la regione cominciano a guardarsi almeno a parlare e trovare una soluzione.